Dunque, signora Sandra, l'indirizzo del nostro file è http2.com www.ibm.com Ha capito? Sara, la sua è una battaglia persa Non sono d'accordo, signor Vianello Il computer è fatto per tutti È friendly, come dicono in inglese Amichevole Persino uno come lei ci riuscirebbe Ma mia moglie, tre giorni che ci fa pugni Sara, vuole una tazza di tè? Sì, la ringrazio Me la preparo Double, 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 double Sara, mi spieghi meglio il concetto del computer amichevole Certamente, allora Ma signor Vianello, le interessa veramente? A me interessa tutto ciò che è amichevole Soprattutto tra uomo e donna Signor Vianello, parliamo di computer, di internet Quindi mi dico un argomento che le interessa Le donne Le donne sono la mia passione Ma signor Vianello, sua moglie? Eh, lei non se lo spiega Dice, ma come uno che ha la passione per le donne Va a prendersi una come Sandra Un errore di gioventù Un errore Ma signor Vianello? Di gioventù Ma è sua mucca questa? La mia mucca, sì Ma non sente? Non sente Cosa? Clarissa! Clarissa! Clarissa!